Ci ho provato, è stato un bel cross, mi è venuto l'istinto di provare la rovesciata e è andata bene, quindi sono contento. Quindi è più bello? Sì, sì. La rovesciata la si fa poche volte, quindi sono contento di averlo fatto. L'importante è perché comunque avevamo disputato anche un buon primo tempo, eravamo stati tanto nel loro metà campo, però avevamo sbagliato negli ultimi metri e nel secondo tempo siamo ripartiti molto forti, infatti ci sono riusciti a trovare il gol e subito dopo anche il vantaggio. Secondo me nel primo tempo abbiamo giocato, diciamo che comunque la partita l'abbiamo fatta anche noi, perché siamo stati, come ho detto prima, tanto nella loro metà campo, poi purtroppo una ripartenza, abbiamo preso il gol e dobbiamo lavorare su questo perché anche nelle scorse partite concedevamo poco, ma il poco che concedevamo prendevamo gole, quindi adesso dobbiamo lavorare su questo aspetto perché comunque la voglia e la determinazione della squadra c'è, però dobbiamo lavorare tanto perché anche oggi abbiamo preso gole, quindi dobbiamo lavorare più di squadra e subito da mercoledì c'è una partita importante per dimostrarlo. Sono buoni giocatori, la Juve ha dei buoni giovani, dei buoni giocatori di prospettiva e sono talentuosi e oggi ha dimostrato e ha fatto anche un bel gol. Io me lo auguro più che altro sulla consapevolezza della squadra che siamo, perché comunque anche altre partite, anche Alecco se al primo tempo stavamo 3-0 per noi non c'era niente da dire, però poi abbiamo perso la partita, quindi adesso dobbiamo lavorare sodo e dobbiamo usare questo entusiasmo di questa partita subito mercoledì e giocare come sappiamo. Credo di lavorare bene, questa settimana abbiamo fatto una settimana piena di allenamenti, quindi ho potuto lavorare nel migliore dei modi. Sicuramente non fare il ritiro per me è stato duro perché comunque hanno lavorato tanto, la scuola ha lavorato tanto e a livello fisico stava molto bene. Adesso io ho lavorato e cerco comunque di migliorare ancora di più la condizione fisica perché ci sono tante partite davanti e voglio stare bene. Ho sofferto più che altro perché comunque non stavo neanche al 100% perché non avendo fatto il ritiro non ero nel migliore dei modi e cercavo comunque di lavorare. Poi come ho detto prima il gol è importante per un attaccante, però in questo momento siamo inizio del campionato, sono più importanti i risultati, poi i gol si arriveranno e sono ancora più contento. No, abbiamo cambiato tanto, loro sono sicuramente due grandissimi giocatori, compagni, dove mi sono trovato molto bene, però quest'anno la squadra è stata fatta bene, ci sono giocatori importanti che hanno fatto anche campionati importanti e quindi ci stiamo conoscendo, abbiamo lavorato tanto e adesso speriamo di ripartire.